Un saluto, ben ritrovati come state, un abbraccio, benvenuti a Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like e a iscrivervi in questa zona sul logo di Milanello. Se lo avete ancora fatto, puntiamo i 90.000 iscritti sono, o meglio, siamo tantissimi, ma c'è sempre ovviamente la porta aperta per ogni rosso-nero che arriva. E quindi mi raccomando, grazie ai vecchi iscritti, un benvenuto ai nuovi che si iscriveranno qui. Cerchiamo di essere 90.000 cifra tonda per il doppio impegno di Champions League. Parliamo di mercato, ma non solo. Vorrei partire con voi da delle statistiche, delle curiosità, barra notizie molto interessanti. Prima però vi consiglio di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball, dal link che vi metto qui sotto nella descrizione. App numero 1, con tutte le notizie esclusive, live, calcio-mercato, highlights da vedere ovunque voi siate, e personalizzabile con soltanto notizie, colori, attualità rosso-nera di Milan. Se vi va, è gratuito, è sponsor del Milan, vi metto il link qui sotto. Potete andare, scaricarla, tornare, poi mi direte cosa ne pensate. È molto ben fatta ed è un servizio in più per ogni tifoso rosso-nero. Allora, alcune chicchettine qua e là. Intanto Pioli è arrivato a 100 vittorie, il primo in questa classifica è Rocco a 243. Secondo Carlo Ancelotti 238, terzo Viani 203, quarto Capello 161, Lidon 128, Sacchi 113, Busini 110, Pioli 100. E quindi diciamo che quest'anno, l'anno prossimo scavalcherà Busini, Sacchi e si avvicinerà o punterà, punterà Lidon, magari anche Lidon, dai, speriamo. Sarebbe bello riuscire ad agganciarli già quest'anno, ne mancano 8 più 2, 10, più 1, speriamo, 11, scusate, 7 più 2, 9 più 1, 10. No, dobbiamo vincere tutti i 10, chissà. Poi un'altra curiosità molto interessante, poi veniamo alla notizia, le maglie del Milan, sapete quella più venduta di chi è? E a me questa classifica ha sorpreso un po', devo dire che ha sorpreso un po', vediamo commentate, quindi aspetto a dare la mia risposta, io sinceramente avrei detto un altro giocatore, invece abbiamo la classifica con tante curiosità. Poi, terza statistica curiosa, Calulu è il quarto difensore ad avere il miglior rapporto contrasti riusciti, del 75,1%, con almeno 100 contrasti tentati dal 2017-2018. Numero molto importante, quindi nell'uno contro uno, nel contrasto, abbiamo un Calulu che è molto forte, possiamo dire anche formidabile. Bene così, allora commentate sotto qual è la maglia più venduta, vediamo quanti azzeccano, io non ci avrei azzeccato, e ci dice anche molto in generale forse del sentimento nei confronti di questo gruppo. Tra l'altro sto valutando, stiamo valutando se, poi anche il Milan ce ne darà occasione, se a voi va, altro sondaggino, se facciamo anche quest'anno il premio del rosso-nero dell'anno, che lo scorso anno con i vostri voti più di 100.000, abbiamo assegnato alla fine di un tabellone come vincitore a Rafa Leao. Allora, siamo ormai, ci avviciniamo al mercato, ovviamente il mercato apro ufficialmente più tardi, ma è già aperto, si parla, ricordo sempre Braida disse, il mercato, le squadre si fanno a novembre, qui siamo un po' più avanti, ormai siamo a maggio, però ecco, ovviamente ci sono tanti discorsi. Abbiamo già detto nei giorni scorsi che c'erano dei rumors, in particolare riguardo il nostro giocatore Orighi. Orighi che fin qui è una grandissima delusione, sembra quasi pure che corra male, davvero, fatico a salvare qualcosa di Orighi, ha fatto due gol, 27 anni, anzi 28 perché li ha fatti il 18 aprile, Belga, 1,89, scadenza 2026, due gol e un assist in 23 partite, giocatore che fin qui ha deluso moltissimo. A proposito di delusione abbiamo parlato anche di De Chetelare, che è più giovane, che potrebbe anche essere in uscita, e qualche collega ha parlato della possibilità che De Chetelare possa andare in operazione di scambio in Premier League. Ecco, dalle nostre verifiche, in realtà in questo momento effettivamente De Chetelare è molto più vicino alla permanenza, Milan non vuole darlo in prestito, Milan o lo tiene o lo cede a titolo definitivo per un valore economico, però che per forza di cose deve essere di 28 milioni, prezzo per cui sarà bilancio. Quindi per De Chetelare escludiamo un'operazione di prestito. Adria andrà in prestito, De Chetelare non andrà in prestito, o resta qui o va via per sempre. Delle due l'una non ci sono alternative, in questo momento la torta come fetta più grande è quella della permanenza. Viceversa per Orighi il Milan invece vuole farlo partire, preferirebbe incassare dei soldini per fare una plusvalenza, visto che Orighi è stato preso a parametro zero con la lista gratuita e quindi qualsiasi prezzo tu riesci a spuntare è tutta plusvalenza. Vi ho detto che Orighi ha mercato in Premier League in una media-bassa classifica, ma anche in Turchia, in qualche club turco della Turchia che non ha problemi a riconoscere a lui un ingaggio che attualmente al Milan è di 4 milioni di euro. Il Milan è disposto a farlo partire, rinunciando quindi anche ai vantaggi del decreto crescita, che è esercitabile se tu tieni un giocatore almeno per due anni. In questo caso è un anno solo, quindi paghi il Lord 8, perdi qualcosina lì, ma vai a incassare, soprattutto non tiri fuori i soldi per il secondo anno dopo una delusione incredibile. Nei giorni scorsi è circolata questa notizia della possibilità di uno scambio tra il Milan e il West Ham, tra De Chetelare e Scamacca. Scamacca ricordiamo un attaccante di 24 anni, un classe 99, è italiano, è alto 95, è andato all'USM per 36 milioni di euro, là si sono pentiti, e ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi un anno in più rispetto a Orighi. Quest'anno lui ha vissuto una stagione travagliata, è partito bene, poi si è un po' perso, attualmente poi è fermo per un'operazione al menisco, che lui ha deciso di anticipare proprio perché ormai si sente già quasi corpo estraneo al West Ham. 16 partite, 3 gol al West Ham in Premier League, per un bilancio di una rete ogni 310 minuti. Pochino, seppur primo anno in Premier League, ha fatto anche 3 gol in conference in 7 partite, una rete ogni 88 minuti, molto buono. Ha fatto anche 2 partite nei preliminari di Europa con un gol ogni 68 minuti, molto buono. In totale 27 partite, 8 gol, una rete ogni 168 minuti, visto così non è malaccio, una rete ogni neanche 2 partite. Ebbene, la notizia quale adesso arriviamo non è decchettelare la pedina eventuale di scambio. Il West Ham si è fatto avanti con gli agenti di Divock Orighi, non è l'unico club inglese che si è fatto avanti. E attenzione, perché un intermediario sta provando a imbastire un'operazione di scambio, sì, tra Milan e West Ham, che riguarderebbe però non decchettelare, ma Orighi e Scamacca, che ha 11 partite e non ha mai segnato con la nazionale azzurra. Scamacca che è passato alla Stellar Group, recentemente ha cambiato agente, è andato alla Stellar, che come sapete, se ci seguite da diverso tempo, è un'agenzia con cui Milano ha ottimi rapporti, ha fatto recentemente il rinnovo di Pierino Calulu, anche lui è passato alla Stellar qualche mese fa, aveva fatto l'operazione di Serginio Dest, purtroppo con scarsi risultati. Con loro si sta parlando anche di altri profili della Premier League, tra cui appunto Gianluca Scamacca, che vuole tornare in Italia. Ha deciso di operarsi proprio per portarsi avanti con i lavori, per farsi trovare lucido in estate, per attirare club dall'Italia. È chiaro che può interessare all'Inter, può interessare alla Juve, può interessare, barra interessa, anche al Milan. È un giocatore che non ruba l'occhio. Nel sondaggio che abbiamo fatto l'altro giorno, in 5 opzioni, comunque ha preso il 16%, se non sbaglio. Non è il giocatore che ti stravolge, che ti ribalta, non è un prospetto di Ossiman, però è un giocatore che può essere davvero funzionale. Ha caratteristiche indiscutibili. Statura è alto, 1,95. Fa gol di testa, è bravo nel gioco aereo, è bravo anche con i piedi, è un'ottima tecnica. Ricorderete il gol da fermo con la palla nel 7 a Mignan, due anni fa. Due anni fa lui, dividendo i gol in un attacco che aveva comunque come fonte di reti raspadori, lo stesso Berardi, ha fatto 16 gol. Non male. In quella che era la sua prima stagione, la seconda stagione in Serie A, l'anno prima aveva fatto otto reti con il Genua. Il Milan già si era interessato, però sapete che poi insomma il Sassuolo è una bottega molto cala. Che cosa succede? Che si sta parlando di questa ipotesi di scambio, ripeto, ipotesi di scambio, che è da seguire con molta attenzione, che però ha delle criticità. Uno è stato preso a 0, l'altro è stato preso a 36. Per questo una possibilità è di fare uno scambio di prestiti con Origi, che interessa l'USM, questo lo sappiamo con certezza. Origi è un giocatore che comunque ha lasciato un buon ricordo in Premier League. Pessimo lo lascerebbe in Italia. E uno scambio di prestiti dunque con Origi destinazione West Ham e Scamacca destinazione Milan. A quel punto il Milan potrebbe toccare con mano, valutare l'impatto di Scamacca non sulla Serie A, ma in una grande squadra come il Milan. Scamacca, dicevo, ha caratteristiche interessanti. Possiamo paragonarlo, se vogliamo, per caratteristiche anche fisiche a Giroud. È un attaccante che, se valorizzato, ha nei piedi e nella testa potenzialmente, insomma, tanti gol. Anche più di Giroud, che non ne fa tantissimi. Mi rendo conto che in un momento in cui noi arriviamo con difficoltà là davanti, Scamacca probabilmente non è un grandissimo punto esclamativo. C'è la componente di rischio, c'è il margine di rischio. Anche perché lui ha fatto, dicevamo, con l'Italia, vediamo, 11 partite e non ha mai segnato. Per questo il contesto per lui potrebbe fare la differenza. Però, se prendi Scamacca a zero, hai più risorse per investire sul rinnovo di Raffaleao, sul centrocampista terzo che deve arrivare, oltre che sull'esterno di destra. Secondo me è un'idea interessante. È chiaro che possiamo sognare qualcosa di più importante. Ad esempio, i profili della Ligan, che fanno valanche di gol, intrigano sicuramente di più. Mi riferisco a Moffi, a Jonathan David e compagnia, Balogun. Però, a livello di giocatore funzionale, lui potrebbe avere le caratteristiche che servono al Milan, soprattutto la condizione anche favorevole. Dovendo noi prendere, secondo me, tre giocatori importanti in estate. Giroud più Scamacca, in prestito, Sernivar e Nautovic sono tutte e tre con le stesse caratteristiche. Se prendi Scamacca e Giroud, potresti anche cercare di avere un terzo attaccante con caratteristiche diverse, con caratteristiche magari più di movimento, per il quale puoi spendere anche dei soldi. Secondo me, uno scambio di presi di Scamacca-Righi è una bellissima opportunità per il Milan, perché ti liberi di un giocatore a quel punto che qui non la becca mai, e ti porti qui un giocatore che è italiano, questo è una lista molto importante, e che in Italia comunque stava facendo bene prima di andare in Premier League. Ripeto, è un'opportunità molto vantaggiosa, un intermediario ci sta lavorando, ci sta lavorando la Stellar, è un'ipotesi di mercato, di scambio da seguire. Io spero in un profilo della Ligan, uno di quei tre o quattro che segnano valanghe di gol. I gol vanno anche pesati, in Ligan è più facile segnare rispetto alla Premier League e anche alla Serie A. Dittemi che cosa ne pensate, io sarei comunque intrigato da quest'opzione, soprattutto il buon Carlo Pogliani, che ha una sapienza tattica clamorosa, sarebbe assolutamente favorevole a quest'operazione. A quel punto ti crei anche spazio magari per una seconda punta, che può fare sia l'esterno che la prima punta di movimento. Lo cafforo della situazione, ho detto un nome, potrebbe essere anche OpenDA, insomma ci sono altre opzioni. Ora, ditemi che cosa ne pensate, ma eravamo aperti con un sondaggio. Secondo voi qual è la maglietta più venduta? Allora, un po' sorpresa per quanto mi riguarda, ah, ingaggio Scamacca 2,5, ingaggio Rikki 4, c'è anche questa differenza. Allora, la maglia più venduta, parto da quella, il 13% sono altro, nella voce altro, 5% la maglia di Giroud, mi aspettavo di più, 7% dei Kettelare, credo vendute tutte all'inizio, 13% Teo, appena 15% Leao, sul quale credo che influisca il fatto che magari l'anno prossimo va via e non sta rinnovando, altrimenti io mi aspettavo lui in pole position, ignoravo il fatto che non c'è certezza del domani. Ibra tira sempre tantissimo, 19%, primo, 28%, Sandrino Nostrotonali. Il fatto che sia tra l'altro un rosso nero uno di noi sicuramente rende il tutto più bello, apprezzabile perché ha realizzato il sogno di ognuno di noi, vestire i colori della maglia del cuore da giocatore e ha vinto anche uno scudetto. Speriamo che possa vincere quest'anno anche quella cosa lì bellissima, detto questo poi ci penseremo, complimenti a chi ci è arrivato, ditemi che ne pensate di Scamacca e di questo scambio con Righi, sicuramente un'opportunità, poi si può ambire a qualcosa di più, certo, ma commentate, 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 lasciate un like e iscrivetevi in questa zona, attivate la campanella, arriviamo a 90.000, mi raccomando, come grande obiettivo per il doppio derby di Champions League. Un abbraccio, iscrivetevi!